Riuscire a salire in corsa su un mezzo che comunque è già partito è sempre difficile, per cui bisogna trovare anche il modo per cercare di prendere quello che di buono è già stato fatto e renderlo ancora più efficace e efficiente sulla base di quelle che poi sono le esigenze del territorio. Stiamo lavorando proprio per cercare di dare senso a quello che sarà il lavoro della struttura commissariale l'impegno è forte ovviamente, chiediamo un grosso supporto al governo perché ci deve dare gli strumenti cercando di smussare gli ostacoli che effettivamente nella ricostruzione purtroppo dopo due anni ancora vediamo ci sono. Sugli equilibri e i rapporti tra governo e regioni? Io il passo in avanti l'ho fatto, la massima disponibilità, non c'è sicuramente scontro con nessuno, non c'è la volontà nemmeno di andare allo scontro perché non è questo che i cittadini si aspettano da me e si aspettano dalle istituzioni. Il tema delle perimetrazioni, ovvero lo strumento possibile per i comuni, previsto dall'ordinanza 25 registrata il 24 maggio del 2017. Le perimetrazioni di quattro tra i comuni più colpiti, ovvero Arquata, Montegallo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Muccia, sono sotto la lente di ingrandimento del commissario, il timore è di perdere altro tempo, specie nei territori più in difficoltà. Dato che appunto erano completati anche gli studi di microzonazione sismica di terzo livello oltretutto, per cui è un documento molto importante, programmatorio, pianificatorio, una verifica, un confronto, una sovrapposizione di quelle che sono le perimetrazioni con le risultanze della microzonazione sembrava opportuno e la riflessione è stata fatta proprio per capire la validità di questi strumenti. Per il prossimo 12 dicembre ha convocato a Rieti i comitati nati del post-sisma. Lì è stata un'espressa volontà dell'assolutore del commissario di incontrare tutti, perché la prima azione che io come commissario mi sono sentito di dare, proprio per il fatto che sono un tecnico del territorio e sul territorio, ragionare coinvolgendo tutto il territorio. Per cui era per me un obbligo sentire anche i comitati, così come ho sentito i sindaci, così come ovviamente si chiede la loro collaborazione, così come sono stati sentiti tutti gli stakeholders che purtroppo in questo momento interessano questa zona.